La nostra storia parte da qui, da questa struttura, che per chi non è di Modena probabilmente non rappresenta nulla, ma per chi è di Modena o chi ha avuto la fortuna di venire a contatto con questa storia rappresenta molto di più. Non rappresenta soltanto il passato manifatturiero e laborioso della nostra città, ma rappresenta uno dei momenti più bui della nostra storia collettiva, di Modena e dei modenesi, ossia quello dell'Ecidio, l'Ecidio delle fonderie riunite, che si verificò il 9 gennaio del 1950, dove persero la vita sei lavoratori e 200 persone furono ferite sotto i colpi della Polizia di Stato. Ecco, questo è quello che rappresenta questo luogo. Ma facciamo qualche passo indietro. Perché questo luogo è così importante nella nostra storia e come si va a collegare con quella che è la storia della nostra città? La città di Modena è sempre stata contraddistinta da una forte connotazione politica nelle proprie azioni e nella propria storia. Questo lo si può ben capire guardando una figura, quella del sindaco Alfeo Corassori, primo sindaco della Modena liberata dopo la fine della seconda guerra mondiale. Ex partigiano e iscritto al partito comunista. È probabilmente uno dei più grandi esempi di amministratore della cosa pubblica. Un amministratore che appunto raccolse il testimone alla guida della città, di una città che uscì dalla guerra profondamente povera e affranta. Soprattutto perché Modena, insieme a tante altre città dell'Emilia Romagna, fu teatro dei più grandi scontri tra la resistenza e le forze nazifasciste. A Modena non c'era molto e vi faccio questo esempio. Visto che c'erano troppe finestre rotte e non c'erano soldi per sostanzialmente sostituire i vetri, il sindaco Corassori insieme alla sua giunta, contrattò con degli artigiani della laguna di Venezia un cambio sostanzialmente. I vetri per le forme di formaggio. Sì, esatto, il parmigiano reggiano. Questo appunto per indicare la concretezza, la pragmaticità degli amministratori comunisti. Ma tornando appunto alle questioni più inerenti al mondo del lavoro, la depressione sociale ed economica nelle nostre terre era molto alta. I posti di lavoro scarseggiavano e c'era questo mantra all'interno della giunta comunista che non si poteva sostanzialmente cambiare di marcia e fare questa rivoluzione sociale senza parlare con gli industriali, senza connettere quelle che erano le sensibilità del territorio per ottenere quello che era il fine ultimo, ossia il benessere della società. Ed è con questo che la giunta comunista cercava di parlare con i vari industriali del territorio per trovare sempre una quadra, per capire come aiutare i lavoratori. Ma in tutto questo c'era un amministratore, anzi possiamo dire un industriale, che non ne voleva proprio sapere di cambiare. Ed era appunto Orsi, il proprietario delle fonderie riunite, ma anche di Maserati, perché appunto portò la causa automobilistica da Bologna a Modena e così costruì il suo piccolo consorzio, che piccolo appunto non era, visto che dava da lavorare a circa 500-600 lavoratori. Ma qual è il problema? Il problema appunto è che la concezione economica di Orsi era molto legata al ventegno fascista, ossia dove appunto non si andava a tutelare quelli che erano i diritti dei lavoratori, ma si cercava appunto di ottimizzare soltanto la rendita della ditta complessivamente, cercando di sfruttare la mano d'opera. Ed è per questo appunto che con le rivendicazioni sindacali di quel tempo Orsi non ci andava molto d'accordo. Per farvi capire chi era appunto Orsi, dopo le elezioni del 1948, decise tre giorni di serrata della fonderia, chiedendo appunto l'intervento della polizia per eliminare i picchetti degli operai in protesta. Nel 1949 Orsi decise di serrare la Maserati e subito dopo le fonderie riunite, perché appunto voleva fare dei licenziamenti. Licenziare 560 dipendenti, tutti quelli delle fonderie riunite, perché era appunto stanco di avere una forte sindacalizzazione all'interno della propria azienda. Infatti, su cui 560 dipendenti, 550 erano iscritti alla FIOM e molti di quelli erano anche degli ex partigiani. Questa volta però l'opposizione sindacale fu netta da parte dei delegati e degli operai. Il 5 dicembre del 1949 le fonderie fecero la serrata e solo il 28 dicembre Orsi annunciò il licenziamento di oltre 300 dipendenti, aprendo le selezioni per nuovi operai che avrebbero dovuto sottostare a delle clausole fortemente alienanti e antisindacali. Il 4 gennaio, giorno della chiusura delle selezioni, non furono pervenute domande di assunzione. Dopo quasi 40 giorni di serrata si arrivò al triste epilogo dell'avvertenza sindacale, appunto il 9 gennaio del 1950. In quel giorno la CGL proclamò uno sciopero generale e appunto c'era molta tensione nell'aria, tanto che arrivarono 1500 uomini armati appartenenti a molti distaccamenti della regione. Un battaglione da Bologna, uno da Cesena, Ferrara, Parma e chi più ne ha più ne metta. Verso le 9 del mattino però successe la tragedia. Un carabiniere sparò al petto di un manifestante e da lì fu un massacro. Sei morti e 200 feriti. La polizia cominciò a sparare in modo indiscriminato sulla folla e su chi passava in quel momento senza fare distinzioni, come se fossero tutti dei criminali qualsiasi. Il bollettino dopo gli scontri fu emblematico, 200 feriti prevalentemente alla schiena e 6 morti. La risposta della città e delle istituzioni locali fu durissima. Nel pomeriggio più di 80.000 persone accorsero in centro per protestare e due giorni dopo si tennero i funerali delle vittime con cerimonie ufficiali e corteo funebre per tutta la città. Ai funerali accorsero anche i vertici nazionali del PC e della CGL, Togliatti e di Vittorio. Il segretario comunista dal palco, allestito per l'occasione, disse «Una società che non sa dare lavoro a tutti coloro che la compongono è una società maledetta. Maledetti sono gli uomini che, fieri di avere nelle mani il potere, si assidono al vertice di questa società maledetta e con violenza delle armi, con l'assassinio e l'ecidio, respingono la richiesta più umile che l'uomo possa avanzare, la richiesta di lavorare». L'ecidio di Modena segnò lo spartiacque di un periodo molto difficile, di lotte sindacali e tensioni sociali. Tutto ciò fece indispettire ancora di più l'opinione pubblica riguardo l'uso sconsiderato della forza attuato dal Ministero degli Interni, guidato da Mario Scelba. Infatti l'utilizzo della forza pubblica in assetto militare in Emilia-Romagna e a Modena fu molto frequente per reprimere le attività delle organizzazioni sindacali o ex partigiane. Ciò nonostante il movimento operaio non ne uscì sconfitto e intimorito, anzi lo spirito del sindacalismo era molto forte nell'animo degli operai modenesi e fu uno dei motori principali per indirizzare strategicamente a riprese economiche e sociali che avvenne negli anni successivi. Oggi sono passati 72 anni da quell'ecidio, 72 anni in cui probabilmente la nostra città ha imparato tanto da quella volta, non sono più successe cose del genere. Perché appunto la memoria di quei fatti hanno fatto sempre da guida per l'intera città. Ci hanno sempre ricordato che basta poco per cancellare i diritti acquisiti tramite le lotte sindacali. E appunto oggi questa struttura, le ex fonderie, sono al centro di un progetto di riqualificazione. Dopo tanto tempo finalmente questa struttura verrà ricordata in una maniera possiamo dire molto propositiva. Sarà un luogo di memoria interattiva, sarà la sede anche dell'istituto storico per la resistenza e sarà il simbolo per antonomasia per ricordarci ogni giorno che bisogna combattere per i nostri diritti.